Cari amici, buona domenica, vi rubo soltanto qualche minuto per rendervi adotti del fatto che ne sto scoprendo di cotte e di crude sui gestori delle energie, luce e gas, sui carburanti e è per questo che oltre a De Bello Energetico ho provveduto ad aprire una pagina su Facebook, questo è il titolo, Acca Nisciune Fesso, iscrivetevi e iscrivetevi al mio blog, avrete tutte le notizie in anteprima, buona domenica!